buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono la cara perpina perchè fa freddo, tengo le mani fredde e fredde appena non c'è solo l'inverno, è freddo e cattivo perchè fa freddo allora, visto che oggi faccio il video di due uscite di I love Paperopoli che sono la terza e la quarta uscita poiché non ho avuto il tempo di fare il video della terza uscita, le farò insieme quindi partiamo con la terza uscita che è questa e l'ho pagata a 6 euro e hanno inventato i prezzi ce la posso fare, vai vai allora che si fa mi sto facendo male le mani perchè questa è proprio plastica, tipo come la plastica che sta dentro ecco qua, ce l'ho fatta allora, questo è il solito, perchè stavolta c'è un cartone dentro, non lo so è il solito cosa che spiega tutto così e dietro ovviamente c'è sempre, ogni volta sempre, un fumetto gigante diverso I love Paperopoli, Paperopoli ok, ora passiamo al pezzo che è questo vediamo se questa bustina si può aprire si, si può aprire allora sono usciti due alberi tutto questa che è una casa guardiamo se dice proprio precisamente cos'è no ah, si no, non è vero ecco qua, questa casa a forma di borsa e questa statua carina, mi piace devo mettere la busta perchè la risposta poi mi fa che la terza uscita è finita questa qua è la quarta uscita e qua sta c'è una collina e una casa e ora avremo anche questa stavolta è più complicato ancora più complicato di prima ecco, ho trovato in modo devo fare così con la sinistra ok no, ho piegato il giornalino mi sono anche tagliata bene bene, mi sono tagliata yeah allora allora sto lavorando le buste vabbè qua inutile vi faccio vedere dentro le notizie e dall'altra pagina se è più freddo lunghissimo come vedo tutte le uscite fermati qua poi come già detto qua nella quarta uscita è uscita una collina mentre la vecchia uscita della stradonna sarà proprio la collina e questa casa quindi ragazzi siamo arrivati a cinque uscite no qua si non lo so contare benissimo siamo arrivati a quattro uscite quattro 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 uscite e ci vedremo ovviamente con un'altra loppa però poi della quinta uscita quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto le carte stanno volando tutte le parti tutti gli angoli quindi faccio prima il video prima che volano giù quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like e iscrivete al mio canale e mandiamo a tutti muah e al prossimo video ciao andiamo a recuperare le carte una due recuperate ciao 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 ciao